Ah no? Giusto? Significante e significato Quello è infinitamente piccolo E scientemente infinitamente grande Come il mio Petrini e Trifred Trifred Nessun mi piace Nessun mi piace Nick Bichegna e Procola Nessun mi piace Nessun mi piace Abbatterò quel muro a colpi di cassa Nessun mi piace Al capriccio non si comanda Nessun mi piace Nessun ni piace Ah no! Nessun mi piace Nessun mi piace Postati un tramonto Nessun mi piace Aggiungimi il안ale bloccato Attenzione Postami un cavallo Nessun mi piace Aggiungimi il sino a bloccato Nessun mi piace Attenzione Postami un tramonto Postami un cavallo Postami un piattino Mostro di un tiracino Mostro di un tramonto Mostro di un cavallo Mostro di un cattino Mi piace dunque esistoso Allora, questo è un po' di più odio E' un po' di più pico Alla grande, iniziata con me Mi scende poco Prendi e pari Alla grande, a parte di un po' di situazioni Non parlo del tuo salotto Il parametro è un po' di più odio Guarda, guarda, guarda Attenzione Portami un cavallo Nessuna mi piace Non parlo del tuo salotto Il parametro è un po' di più odio Guarda, guarda, guarda Non parlo del tuo salotto Il parametro è un po' di più odio Non parlo del tuo salotto Il parametro è un po' di più odio eh di cui segne voto va voglio morire alla grande abbatterò quel muro a colpi di tazzo mi parlavo ieri con Marco Marco tu non ami davvero Satana? eh davvero io sono alla grande abbatterò quel muro a colpi di tazzo nessun mi piace 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 sex? si tromba di sicuro? nooo chiamate i garanti nel 1911 sex che ha un diciotto un diciotto per entrare più consumazione Yes, figata da Alcatra Quindi dite un po', ho fatto dei video Ok, quindi io non capisco Per me Guccini invece mi garba Ora solo perché fatto perché era di sinistra Il Guccini è una merda E invece Guccini è bravo come autore Invece voi fascisti di Guccini non l'avete mai apprezzato Ascolta Ascolta